Sei stato recentemente truffato o scammato? Sei stato bannato e non ti sembra giusto? Sei stato mutato in maniera immotivata? Non riesci più ad accedere al tuo account? Sei un genitore che vuole controllare l'operato del figlio o solamente capire in cosa consiste ABBO? Bene, in questo tutorial vi spiegherò tutto questo. Benvenuti a questo nuovo video da PuntoSteam.it e da Blanche. Ciao! Dunque, per prima cosa dall'Hub Homepage, ossia dalla schermata nella quale vi ritroverete subito dopo il login, dovete andare su sicurezza. E qui ci saranno una sfilza di opzioni. Questi sono dei consigli della sicurezza. Ossia, sono delle cose che appunto, sono dei consigli che non sono realmente vietati. Ad esempio, no alla webcam. Stiamo facendo adesso. Però, ovviamente, queste sono, diciamo, più appunto per i bambini più piccoli. Quindi, se ad esempio sei un genitore e tuo figlio non è abbastanza grande o è maturo per poter navigare su questo sito e magari rischia di farsi trascinare da pedofili o altro, ovviamente non gli lasciate l'utilizzo della webcam. Poi, però, se sei una persona matura e comunque a una certa età, queste cose comunque non vanno a violare le hub away, che sono invece queste. Perché ve lo sto dicendo? Perché? Perché per queste cose non si può essere bannati. Non si può essere bannati per webcam, a meno che appunto si obblighi qualcuno, ad esempio sei un trentenne e obblighi una bambina da venire in webcam con te e poi fai il pedofilo, allora sì, sarai bannato, eccetera. Però, se lo fai come lo stiamo facendo noi in questo momento, è una cosa perfettamente legale. Ora invece passiamo all'hub away. Non si può, appunto, barare, trollare, fare cybersex, che sarebbe sesso virtuale, non so la gente come faccia a farlo, e ovviamente truffare gli altri utenti, usare script, come vedete questi sono gli script delle specie di bug che vanno a modificare il sito, ovviamente non si può truffare, e questo è importantissimo, non si può vendere i propri oggetti, i propri crediti e il proprio account per soldi reali, in pratica. Perché capita spesso che appunto ci siano dei rivenditori private, ad esempio pocheristi, o gente che ha fatto compravendita di rari, che ha un mucchio di soldi e li rivende per euro a prezzi bassi. Però se fai una cosa del genere, il ban a vita, una volta se viene sgamato ovviamente, è assicurato e non reversibile. E adesso è vietato anche l'utilizzo delle scommesse. Quindi appunto il poker è bandito e chiunque appunto, ad esempio adesso c'è il dado alto, che è più o meno anche questo a scommessa e sfrutta di dadi HC. Se giocate o arbitrate adesso a dado alto una partita a pagamento, ossia dove due giocatori puntano dei soldi, i giocatori se sgamati appunto dai moderatori saranno... succederà questo, gli verrà tolto lo scambia. Prima per due giorni, poi per una settimana, poi per un mese e poi per sempre. Quindi vi consiglio di evitare di scommettere o comunque se proprio dovete farlo, fatelo con un clone. Bene, ad esempio, sta succedendo qualcosa su Abbo. Io sono nella mia stanza, arriva qualcuno e inizia a offendermi. Bene, io come consiglio vi darei quello di premere su di lui e fare muto. In questa maniera voi non sentirete più, insomma, non leggerete ovviamente, quello che dirà. In questa maniera eviterete tante rotture di scatole, ma se proprio non ce la fate, cosa fare? Dunque, si clicca su questo personaggio ad esempio e si fa segnala. Qui c'è un'opzione, potete scegliere quale, ad esempio per bullismo, sessualmente esplicito, vi chiede informazioni personali oppure appunto andate su altra minaccia. Qua dovrete scrivere in particolare cosa è successo, se scrivete troppi caratteri non potrete nemmeno inviare. E poi invece da qui potrete selezionare l'avatar che vi ha infastidito. La cosa utile di quest'opzione qua sulla destra è che si può selezionare anche avatar di una stanza nella quale non ci si trova. Ad esempio, noi siamo stati prima in una stanza, uno ci ha offesi e poi siamo venuti qui e possiamo comunque segnalarlo. Oppure tipo, questo ci ha detto una parolaccia pur di non essere segnalato e scappato. Niente, non può sfuggire a questo controllo. Quindi poi si clicca qui, si fa continua, ora non lo clicco perché non avrebbe senso. E niente, in alternativa si può andare qua giù su aiuto, vedete? Da qua si può chiedere istruzioni, ossia si può chiedere a un helper un consiglio su qualcosa. Si invia una richiesta d'aiuto e dopo pochi minuti, anche secondi, si viene contattato appunto da uno degli helper online. Però dovete valutare che gli helper sono semplicemente abbini come voi, quindi utenti, ragazzini che non per forza vi daranno il consiglio giusto. Quindi, se volete un consiglio più da esperti, vi consiglio di commentare in questo video e ci penso io. E allora, qua appunto c'è il segnalare il caso di bullismo. Qua c'è appunto il link al supporto al giocatore, che è quello che andremo a vedere e che è appunto sul quale verte il tema di questo video. Questo invece per l'emergenza, appunto, chiedi subito aiuto e facendo così questo arriverà, se non sbaglio, direttamente ai moderatori e non alle guide. Però non ne dovete abusare, perché se lo sfruttaste sempre in maniera impropria rischiate anche di essere bannati. Quindi, niente, andiamo appunto a vedere come fare. Andiamo quindi su guida per genitori e ci si ritroverà qua giù al supporto al giocatore. Per trovare questo, ovviamente vi lascerò anche il link in descrizione. Comunque, appunto, si va su Google e si scrive Abbo Help Tool, quindi lo strumento di aiuto di Abbo, no? E di fatti ci si trova qui. Bene. Questo è utile. Allora, da qua potete accedere col vostro account. E per qualsiasi problema, a parte che qua trovate un elenco delle richieste inserite, e quindi dalle domande frequenti, eccetera, eccetera. Ad esempio, vedete, in questo momento ha loggato sul mio avatar. Bene. Adesso, se adesso vogliamo inviare una richiesta, appunto, si clicca qui. E qua c'è l'oggetto, è come un'email. Quindi scriviamo, ad esempio, richiesta di sban. Mettiamo caso che siete stati bannati per un anno per aver fatto qualcosa di male. Qui dovete dare delle buone motivazioni per le quali farvi sbannare. Ad esempio, mi dispiace, non sapevo che era una cosa così grave. Insomma, però, scuse abbastanza intelligenti, e soprattutto se riuscite anche vere. Cioè, dimostratevi costernati. Cioè, dispiaciuti di quello che avete fatto. Non iniziate a dire roba del genere, eh no, perché ero ubriaco. O, è stato mio fratello giapponese. Ecco, non ci cascano. Se invece vi dimostrate pentiti e dite loro che non ricapiterà mai più, è molto più probabile che, appunto, accettino la vostra richiesta. Ovviamente, se è un adulto, o comunque vi fingete di essere un adulto, diciamo che si potrebbero spaventare un po' di più. Ad esempio, vi mandate un'email molto innervositi, mio figlio ha speso un sacco di soldi qui, eccetera. Però, per mandare una cosa del genere, appunto, dovete aver fatto delle ricariche da Abbo. Tant'è che, eh, più ricariche avete fatto dal sito, è più è probabile che, eh, prendano in considerazione la vostra richiesta. Ovviamente. Quindi, qua scrivete pure, eh, quello che vi ho appena detto. Abbo, chi sono? Indica chi sei, vedete. Proprietario di un account, un genitore, o nessuna delle precedenti. In questo caso, credo, appunto, dopo dovrete specificare. In questo caso, mettiamo, io sono il proprietario di un account abbo. Voglio parlare di... E come vedete, qua ci sono le opzioni più utilizzate. Vedete? Il cambio dell'abbonome è una cosa che si può, che può, diciamo, succedere nel caso veniate, ad esempio, bannati per il nome. Vi chiamate... Pisellino 33, 33 l'età non è. E' ovvio che... Che vi bannano. Ma, se magari l'avete fatto in maniera, diciamo, innocua, come mi ricordo che c'era una che si chiamava Clitoride e non sapeva che volesse dire. Eh, beh, lo specificate e vi modificano... e vi modificano l'account. Ovviamente... Sperateci, non chiamatevi così per piacere. Il mio nome abbo è questo e qua potete allegare, ad esempio, dei file. Se, ad esempio, qualcuno vi ha offeso e vari... Io vi consiglio fortemente di segnarvi in che stanza... Quindi, prendete il link dalla stanza, si fa così, guardate. Impostazioni, collega questa stanza, qua c'è il link della stanza. E anche la data è l'ora. In questa maniera, i moderatori possono andare a visualizzare le logs e controllare se realmente quello che hai detto è successo. Perché non possono basarsi sulla tua parola, ovviamente, gli servono prove. E dato che gli screen sono comunque facilmente modificabili, falsificabili, in Paint o qualsiasi programma di grafica, loro hanno bisogno delle logs. Dunque, se volete fare delle domande che probabilmente hanno già fatto tutti, ossia non è niente di veramente specifico, vi consiglio appunto di andare a controllare sulle domande frequenti. Farete molto prima e sicuramente a 99% dei casi troverete quello che vi serve. Come vedete, sono anche divisi in sezioni, ad esempio, abbo-crediti. Quindi, come posso acquistare gli abbo-crediti? Queste sono tutte delle FAQ, ossia Fast Answer Question, veloce domande risposte. E potete consultare queste. Oppure, appunto, come vi ho detto, commentate qua sotto e cercherò di aiutarvi. Se, invece, appunto, la vostra richiesta è più specifica, dovete inviare una richiesta. Allora, una volta inviata la richiesta, succederà questo. Voi dovrete, in pratica, avere un indirizzo email, ovviamente. Adesso non ve lo chiede qui perché vi viene preso direttamente dal vostro account. Quindi, nel momento nel quale voi, appunto, create l'account per abbo e quindi anche per abbo per il supporto al giocatore, loro avranno quell'email e manderanno l'email a quello. Ecco, e in quell'email cosa vi arriverà? Che arriverà entro 24 ore. Vi arriverà quest'email nella quale ci sarà di nuovo il vostro messaggio copiato e poi vi chiederà delle informazioni personali, ossia sul vostro avatar. Tipo, che so, la data di nascita, quando sei stato iscritto, o magari, comunque, delle cose che dimostrano che sei realmente te il proprietario del tuo avatar. Ad esempio, ti chiedono quanti furni hai, più o meno. Io, quando mi hanno fatto quella domanda, le ho fatto se hai voglia di contarli, ti lascio fare. Però, questo perché sono troppo ricco io. Però, niente, voi dite, ad esempio, ho tre stanze, o... Poi ti chiedono, ad esempio, di elencare qualcuno della lista amici. Questo è abbastanza facile. Quindi, riuscite, in maniera, appunto, semplice a rispondere a questo. E, dopo che avete, appunto, compilato questo sondaggio immediato, diciamo, la vostra richiesta sarà realmente inoltrata. Perché, fino a che non lo farete, la vostra richiesta non sarà minimamente presa in considerazione. Loro vogliono essere prima sicuri che sei realmente te e non è, magari, un bot a fare queste richieste. E quindi, servono, appunto, i mail di conferma. Bene, una volta che avete risposto a quella, dovete semplicemente attendere che il supporto al giocatore vi risponda. Io non so che dirvi. Non sono molto veloci. E, andiamo a vedere, vedete? Qui io gli ho mandato un'email il 21 dicembre 2011, mi hanno risposto il 22 gennaio dell'anno dopo, 29 agosto, 12 settembre, 3 marzo, 24 marzo. È molto difficile che vi rispondano in meno di due settimane. Comunque, nemmeno tempi assurdi. Entro un mese dovrebbero rispondervi. Certo, non è il massimo, ma non ci si può aspettare troppo. Alla fine saranno due persone al massimo a fare questo lavoro e gli arriveranno veramente tantissime richieste. E, niente. Un consiglio che vi do è, se siete bannati, per un ban minore di un mese non richiedetelo. Uno, perché non fanno in tempo a rispondere. E due, perché, appunto, per ban inferiori a un mese non prendono in considerazione la richiesta di sbann. Invece, se siete stati bannati per un altro periodo o più lungo, dovete comunque cercare di inviare la richiesta in maniera più tempestiva possibile. In quanto, se scadono sei mesi dalla data del ban senza che, appunto, questo sia revocato, il ban resterà permanente a vita e non potrete fare niente per fermarlo. Bene, se non vi troverete su YouTube in quel momento nel quale magari succederà qualcosa e avrete bisogno di un consiglio, potrete contattarmi in qualsiasi momento sul mio forum, che è questo qui, Forum Libero a Bostin. Lo trovate fra i forum più attivi, più visti, o comunque trovate un pannello in quasi tutte le mie stanze, soprattutto, ad esempio, anche in questa, che è la più visitata. Quindi, non esitate a commentare, a chiedermi un consiglio, anche in un qualsiasi altro mio forum, e vi risponderò il prima possibile. Bene, per questo video è tutto. Vi lascerò, appunto, il link del come aprire una richiesta in descrizione del video. E ciao a tutti da Puntoste in Punto e da Blanche. Bene, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale cliccando su Subscribe. Come vedete, ai quattro angoli del rettangolo ci sono altri quattro video davvero utilissimi. Il primo video, in alto a sinistra, vi insegnerà come segnalare, nel modo più appropriato, gli utenti che vi hanno infastidito. Per quanto riguarda il secondo, invece, quello in alto a destra, vi spiegherà come diventare cittadino, di conseguenza, come abilitare gli scambi, e, appunto, vi permetterà anche di commentare su tutti i forum. Infine, quello in basso a sinistra e quello in basso a destra, vi permetteranno di diventare voi stessi degli helper, e poi, di conseguenza, anche dei guardiani che hai il livello successivo. Quindi, vi consiglio di guardarli nell'ordine in cui sono stati messi, e lasciate un like al video. Qui in basso, troverete anche il link alla mia pagina Facebook, puntostim.abbo, nella quale organizzo un sacco di competizioni con premi in crediti e furne. Accanto trovate anche l'account Twitter, nel quale potrete comunque farmi domande di qualsiasi genere, e tenervi aggiornati sulla mia attività. Infine, il canale Google+. Tutti i link li troverete anche in descrizione, se siete da dispositivi mobili.